bene come abbiamo detto in questo corso inseriremo le sezioni about e contact qual di sotto della sezione portfolio ma prima vediamo un attimo una cosa se andiamo sulla pagina about o contact vediamo che il footer si comporta in questo modo quindi non ce l'abbiamo nella parte inferiore della pagina ora qua nella pagina portfolio non era un problema perché la l'altezza della sezione portfolio è talmente lunga da spostare il footer al di sotto quindi non abbiamo questo problema nella sezione about e contact che il contenuto prima del footer non è abbastanza alto da spostare il footer al fondo della pagina abbiamo quindi questo problema che si può risolvere tramite css ora come abbiamo detto sposteremo comunque la sezione about e contact nella pagina portfolio però cogliamo l'occasione adesso per vedere questa proprietà per spostare il footer sempre in fondo alla finestra del browser ora andiamo su css e vediamo che proprietà dare per ottenere appunto lo sticky footer ora innanzitutto andiamo sulla pagina html quindi ad esempio su about e racchiudiamo tutto il corpo tranne il footer in un container quindi qua sopra l'header inseriamo un div e gli diamo una classe un esempio container ora chiudiamo quindi al di sopra del footer e dobbiamo fare in modo che questo div che questo container spinga al al bordo inferiore della pagina il footer ora andiamo su main css e quindi prendiamo la classe container ora andiamo su about container e gli diamo la seguente proprietà la proprietà min height e gli diamo 100 vh ora il vh è un'unità di misura un'unità di misura che si relaziona al viewport quindi alla finestra del browser ora se diamo un vh vuol dire che è un centena di centesimo del viewport se diamo 100 ovviamente sarebbe il cento per cento della finestra quindi se adesso andiamo a fare refresh come vedete il footer si è spinto al di sotto ma in realtà si è spinto un po troppo al di sotto noi lo vorremmo semplicemente qua come si risolve questa cosa si risolve sottraendo l'altezza del footer a questa altezza che avevamo dato ora abbiamo due modi per farlo ce lo calcoliamo e poi lo scriviamo qua quindi vediamo qual è l'altezza del footer l'altezza del footer è 157,188 pixel ora noi dovremmo calcolarcelo e poi scriverlo qua ma possiamo anche farlo direttamente su css attraverso il valore calc basta inserire calc aprire una parentesi tonda e qua di seguito fare l'operazione quindi gli sottraiamo 157,188 pixel che era appunto l'altezza del footer quindi salviamo facciamo refresh e come vedete adesso abbiamo ottenuto l'effetto che volevamo ottenere ora ovviamente dovremmo fare la stessa cosa per la pagina contact questa proprietà che abbiamo visto si può applicare se il footer ha un'altezza predefinita se quindi ha un'altezza fissa ovviamente questa proprietà la possiamo applicare se il footer ha un'altezza fissa quindi in questo caso 157 pixel se ha un'altezza che varia ci sono proprietà di css più complesse che vedremo in futuro nei prossimi corsi però per siti semplici come questo va benissimo ora nella prossima lezione andremo avanti a creare il nostro one page website perfetto 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 perfetto